carissimi pace buona giornata di benedica stiamo guardando per grandi linee al salmo 23 o meglio il verso 4 nel salmo 23 dove abbiamo evidenziato come ci siano dei cambiamenti di tono in quanto innanzitutto c'è un qualcosa che riguarda esperienze future non più esperienze che il salmista già vissuto perché riguarda non più eventi che allargono il cuore verdeggianti pascoli e acque calme ma qualcosa che incute timore vada dire la valle dell'ombra della morte e abbiamo visto come questo però non scalfisce la fede di davide il quale invece afferma anche nella valle dell'ombra della morte se mi dovessi venire a trovare io non temerei male alcuno e abbiamo evidenziato come nella nostra vita possono in effetti prospettarsi delle situazioni difficili ma questo non deve mai scalfire la nostra fede nel signore anzi ci deve portare a dichiarare con piena fiducia io non temerò male alcuno e poi c'è un altro elemento che distingue questo verso dai precedenti e cioè il fatto che davide non parla del pastore ma davide comincia a parlare col pastore e questo lo capiamo dal fatto che dal primo al terzo verso il re davide ci ha parlato del pastore di ciò che egli ha fatto nella sua vita il signore mio pastore egli mi ha fatto egli mi fa riposare in verdi pascoli egli mi guida lungo le acque calme egli mi ristora l'anima ma adesso il salmista si rivolge direttamente a dio quindi parla col pastore infatti dice quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte tu sei con me in realtà questo cambiamento non è soltanto grammaticale ma esprime qualcosa di molto profondo ed è un cambiamento molto rilevante già che una cosa è parlare di dio è una cosa molto diversa è parlare con dio noi siamo capaci di dire molte cose a proposito del signore e la maggior parte di esse in genere sono anche corrette possiamo elaborare concetti dottrinali validi questionari e questionare scusate su verità bibliche possiamo discutere del dio della bibbia e scoprire gioia e piacere nel farlo ma spesso se è facile parlare del signore non lo è altrettanto parlare col signore per confidargli le nostre preoccupazioni per affidargli i pesi che gravano sul nostro cuore e allora dobbiamo un attimino fermarci e riflettere quanto intima è la nostra relazione con dio perché magari tu che mi stai ascoltando parli spesso del signore ed è una cosa buona ma ti sei dimenticata di parlare o ti sei dimenticato di parlare col signore direttamente a lui voglio fare una domanda la voglio fare a me a te hai mai parlato col signore allo stesso modo di davide infatti questo dialogo che troviamo nel sar nel salmo era l'unico rimedio che il salmista possedeva per sconfiggere l'ansia e la disperazione causata dal dal futuro che si presentava davanti a lui come tenebroso il re non si accontentava di discutere o di esporre una dottrina conforme alla natura di dio no davide aveva un profondo bisogno di parlare direttamente con lui e l'apostolo paolo risponde alle nevrosi che accompagnano il nostro tempo alle paure all'ansia che caratterizzano la vita di alcuni cristiani con le parole che troviamo scritte in filippesi capitolo 4 verso 6 e verso 7 e cioè non angustiatevi di nulla ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a dio in preghiere e suppliche accompagnate da ringraziamenti e la pace di dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e vostri pensieri in cristo gesù qual è il luogo nel quale davide sta immaginando di camminare lui lo chiama la valle dell'ombra della morte se qualcuno ha mai letto il libro di john bunyan il pellegrinaggio cristiano ricorderà che il protagonista del racconto compie il suo cammino attraverso due valli la prima è la valle dell'umiliazione e non è un luogo semplice da attraversare e in questa valle cristiano deve lottare contro il suo nemico apollion angelo di morte e distruzione che rappresenta il diavolo e anche nella vita cristiana il signore permette che i suoi figli giungono nei territori dove ci si scontra con l'avversario ma come non bastasse cristiano dovrà attraversare quella che bunyan chiama la valle dell'ombra della morte e l'autore ci svela i pensieri di cristiano che guardando verso la valle pensa per un attimo ritornare indietro poi però riflettendo considera che per raggiungere la città cileste è necessario attraversare proprio quella valle il cielo infatti è esattamente dall'altra parte e il protagonista della storia si rende conto di quanto sia stretta e pericolosa la strada con un fossato da un lato e una palude dall'altra e quando prova a schivare il fango per poco non cade nella fossa il protagonista inoltre scopre che nessuna delle armi utilizzate nella battaglia precedente adesso gli era utile c'è soltanto una cosa che può fare utilizzare l'arma della preghiera e mentre prega gli sembra di sentire la voce di un uomo che afferma quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte io non temerei alcun male e udita questa voce suave cristiano riprende coraggio comprende che molti altri uomini di dio hanno camminato attraverso questa valle e pensa fiduciosamente che se il signore è stato accanto a loro certamente sarà anche assieme a lui e questo è il messaggio che dobbiamo cogliere da questo verso anche noi possiamo dire la voce di davide che contempla questo luogo solitario e tenebroso e afferma io non temerei alcun male perché tu sei con me e questa deve essere anche la nostra voce deve essere anche la nostra esperienza perché lo stesso dio che è stato con davide nei momenti più difficili sarà anche al nostro fianco pronto a soccorrerci e a condurci in salvo quando anche dovessimo attraversare la valle dell'ombra della morte cari che dio ci aiuti ad avere la consapevolezza della grandezza e dell'amore che dio ha per noi e allora anche noi diremo quando anche dovessi attraversare la valle dell'ombra della morte io non temerò perché tu signore sei con me la pace di dio la sua grazia il suo amore sia con tutti quanti noi dieci benediche insieme grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti